Il progetto K229, il Babbel Tour, ci vede scuola capofila insieme a delle scuole partner di Germania, Francia, Paesi Bassi e Finlandia. Ci siamo occupati di strutturare un'agenzia di viaggio virtuale, quindi volevamo studiare il patrimonio storico, artistico, culturale del nostro territorio e confrontarci con quelli dei paesi partner. L'idea di sviluppare un turismo sostenibile è legato alla nostra adesione alla rete di scuole green e abbiamo inserito volentieri dentro questo progetto l'esperienza di Long Term Mobilities perché volevamo un po' sperimentare questa nuova formula, quindi abbiamo deciso di inviare lì cinque nostri studenti che sperimentassero per due mesi ciascuno la vita nelle scuole partner, quindi potenziassero le loro capacità linguistiche e soprattutto potessero ricavarne degli insegnamenti utili per l'esperienza di alternanza scuola-lavoro. È importante innanzitutto rassicurare le famiglie, rassicurare i ragazzi perché i timori di solito più frequenti sono quelli di perdere parte del nostro curriculo. Altra cosa importante è individuare dei ragazzi che abbiano già della preparazione linguistica. La Germania è quindi stata per me una boccata d'aria fresca. Sono tornata in Italia come una persona più entusiasta, veramente nuova, aperta al cambiamento, più sicura di sé e maggiormente consapevole delle proprie competenze e capacità. Posso dunque dire che quella in Germania è stata un'esperienza assolutamente preziosa e ho portato con me una valigia piena di esperienze da raccontare, sguardi, persone che ho conosciuto, punti di vista nuovi e una lingua che ho imparato bene, anche di tante paure superate. Questa esperienza quindi sicuramente mi sarà d'aiuto per il futuro. Ho sicuramente ancora un forte legame con la mia città e con la mia scuola ospitante. Sono ancora in contatto con i miei amici, con gli insegnanti tedeschi e soprattutto con la mia famiglia ospitante che è e sarà sempre una parte importantissima della mia vita. Il rapporto di classe con i compagni in Germania è stato sicuramente molto bello. All'inizio ci sono state ovviamente delle difficoltà perché la lingua è diversa da come la si studia a livello scolastico, sicuramente c'è una grande differenza. Però subito c'è stato questo interesse soprattutto nel ragazzo straniero che viene nella scuola e che comunque suscita questa sorta di felicità anche nei compagni di curiosità. Abbiamo subito socializzato, io ho subito socializzato, ho moltissimi amici ancora adesso là. Inizialmente sono state delle difficoltà ma in realtà in generale perché si passava da un anno in cui molte persone arrivavano in questa scuola da scuole differenti, perciò tutti si dovevano conoscere, non c'erano proprio questi gruppi. Però un tempo una o due settimane mi sono completamente ambientato, ho fatto amici in tutta la scuola della mia età e non e mi sono trovato davvero tanto tanto bene. Il mio soggiorno in Francia è stata un'esperienza veramente bellissima e certamente ci sono state delle difficoltà, soprattutto iniziali per quanto riguarda l'approccio con la lingua ma anche l'approccio con i ragazzi sia in famiglia che in ambiente scolastico. Però dopo con il tempo e con tanto esercizio sono riuscita comunque a parlare in maniera fluente e quindi ad approcciarmi con gli altri ragazzi in maniera del tutto naturale. Degli aspetti positivi sono stati anche il fatto di fare nuove amicizie ma soprattutto di portare queste relazioni con gli altri ragazzi anche dopo il soggiorno. Infatti un esempio è che quest'estate io tornerò in Francia. Degli altri aspetti negativi sono stati il fatto che il ritorno a scuola è stato diciamo pesante. Alla fine grazie all'aiuto dei prof e dei miei compagni sono riuscita senza problemi a riintegrarmi nell'ambiente scolastico e quindi devo ammettere che questa esperienza ha avuto prettamente dei pro e quasi in nessun contro. Il sistema scolastico francese è molto diverso da quello italiano. Infatti per quanto riguarda la giornata scolastica è suddivisa non solo al mattino ma anche al pomeriggio. Penso che da questo derivi anche il fatto che stando a scuola al pomeriggio il carico di studio individuale da fare a casa è molto ridotto. In Francia si tende a studiare per argomenti. Ogni persona sceglie tre materie da poter frequentare e in base a queste si diciamo sposta nelle diverse classi. In un certo punto di vista è un punto a favore perché si ha la possibilità di conoscere più persone perché ogni ora appunto i compagni di classe cambiano. Il nostro scolastico e anche per me personalmente, i progetti Erasmus hanno un valore reale. Abbiamo stato involvati in molti progetti. È l'opportunità di essere involvati in qualcosa di più grande, è l'opportunità di creare chances per gli studenti, per andare a altri paesi e lavorare su alcuni problemi, per essere involvati. L'esperienza dell'Erasmus per la scuola è stata molto importante negli ultimi tre anni perché è stata davvero un'occasione per agire le priorità che la scuola si era data all'interno del piano di miglioramento per l'elaborazione del POF. Volevamo creare situazioni di apprendimento attive in cui i ragazzi potessero essere protagonisti del loro percorso di crescita e di apprendimento e volevamo che accanto, oltre, insieme, dentro alle competenze disciplinari, i ragazzi potessero maturare l'ampio spettro delle competenze europee, proprio come competenze per la vita. In questo momento nella scuola sono attivi tre progetti Erasmus, sono certamente occasioni bellissime di continuare a viaggiare, a scambiarsi doni, lingue, culture, è proprio un modo anche per reagire a quello che vediamo.